Il mio nome è Elisabetta. Sono la conduttrice di TG Rally Link. Innanzitutto un augurio per un buon anno pieno di soddisfazioni. Inizia subito la stagione 2014 con l'ON Rally, il rally austriaco che apre il campionato europeo rally. La gara si disputerà in due tappe, sabato 4 e domenica 5 gennaio, con 18 prove speciali per un totale complessivo di 245 km di tratti cronometrati. 56 iscritti alla gara, con il numero 1 Robert Kubica che affronterà la gara austriaca con la Ford Fiesta Super 2000, per poi partecipare con la versione WRC al prossimo rally di Monte Carlo, valido invece per il campionato del mondo. Altri protagonisti alla gara austriaca, i beniamini di casa, Andrea Seigner questa volta con la Peugeot 207 Super 2000 e Raymond Baumslager con la Skoda Fabia Super 2000. Da segnalare anche la presenza del forte pilota polacco Cayetan Cayetanovic con la Ford Fiesta in versione R5. L'anno scorso il rally è stato vinto da Ian Copecchi con la Skoda Fabia Super 2000, laureatosi poi a fine stagione campione europeo. Questo fine settimana, sul circuito innevato di Riva Valdobbia, si disputa gara UNDEL ormai consolidata a Sirie, la serie di gare su neve e ghiaccio che quest'anno si compone di sei appuntamenti, fra gennaio e febbraio. Appuntamento alla prossima edizione di TG Rally Link e ricordati di votare, dalle pagine del nostro sito, al sondaggio per premiare il personaggio del rally 2013. La promessa del rally ed il navigatore che si aggiudicherà l'ambito trofeo l'oristro oggi ha. Buon rally a tutti.